Ciao e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo Un Corso in Miracoli. Oggi siamo alla penultima lezione di questo primo ripasso. Il ripasso è un'occasione per far diventare questi nuovi punti di vista parte integrante della nostra quotidianità, per andare al di là di tutto ciò che viviamo durante il giorno e per guidarci verso la pace. Prima di iniziare la lettura delle 5 idee e 5 commenti, facciamo un profondo respiro, facendo scendere l'aria giù fino alla pancia, riempiendola come un palloncino, ed espirando come se volessimo far uscire tutto ciò che in questo momento di ascolto e di lettura non ci serve. Qualsiasi tensione, qualsiasi disagio, qualsiasi preoccupazione, qualsiasi senso di ansia, lasciamo l'uscire. E torniamo presenti a noi, completamente dedicati a questo momento. Entriamo in quel posto in cui tutto è tranquillo, non c'è niente da difendere, niente da dimostrare. Quel posto in cui ci sentiamo tranquilli, dentro la nostra mente. E da lì, ascoltiamo la lezione del giorno. Lezione numero 59. Le seguenti idee sono per il ripasso di oggi. Idea numero 1. Dio è con me ovunque io vada. Come posso essere solo quando Dio è sempre con me? Come posso essere dubbioso ed insicuro di me stesso quando la certezza perfetta dimora in Lui? Come posso essere disturbato da qualcosa quando Egli riposa in me in pace assoluta? Come posso soffrire quando l'amore e la gioia mi circondano attraverso di Lui? Non voglio nutrire illusioni su di me. Io sono perfetto perché Dio è con me ovunque io vada. Idea numero 2. Dio è la mia forza. La visione è il suo dono. Che io non mi affidli ai miei occhi per vedere oggi. Che io sia disposto a scambiare la mia misera illusione di vedere con la visione che è data da Dio. La visione di Cristo è il suo dono ed Egli me l'ha data. Che io invochi questo dono oggi affinché questo giorno possa aiutarmi a comprendere l'eternità. Idea numero 3. Dio è la mia fonte. Io non posso vedere separato da Lui. Io posso vedere ciò che Dio vuole che io veda. Non posso vedere altro. Al di là della sua volontà ci sono solo illusioni. E sono queste che scelgo quando penso di poter vedere separato da Lui. Sono queste che scelgo quando cerco di vedere attraverso gli occhi del corpo. Ma per sostituirle mi è stata data la visione di Cristo. E attraverso questa visione che scelgo di vedere. Idea numero 4. Dio è la luce in cui vedo. Non posso vedere nell'oscurità. Dio è la sola luce. Pertanto, se devo vedere, deve essere attraverso di Lui. Ho cercato di definire cos'è il vedere, ma mi sono sbagliato. Adesso mi è concesso di capire che Dio è la luce in cui vedo. Che io dia il benvenuto a questa visione e al mondo felice che essa mi mostrerà. Idea numero 5. Dio è la mente con cui penso. Io non ho pensieri che non condivido con Dio. Non ho pensieri separati da Lui, perché non ho una mente separata dalla sua. Come parte della sua mente, i miei pensieri sono i suoi, ed i suoi pensieri sono i miei. Oggi mi piacerebbe cambiare un po' la modalità e fare insieme già la prima pratica del giorno. Ti ricordo che il testo consiglia di leggere le cinque idee e i cinque commenti la mattina e poi durante il giorno scegliere una delle idee, una idea alla volta, e sentirla profondamente dentro di te per almeno due minuti. Ecco, abbiamo già fatto la lettura o l'ascolto di queste cinque idee. Adesso vorrei che ci dedicassimo due minuti prendendo la prima idea del ripasso, sentendola profondamente dentro di noi. L'idea dice Dio è con me ovunque io vada. Ci prendiamo da adesso due minuti e ci ritroviamo qui. Grazie. 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 Dio è con me ovunque io vada. Dio è con me perché Dio essenzialmente è la vita che io sono, quindi non può andare da nessun'altra parte se non dove io sono. E' un modo per dire che tu puoi provare pace in ogni posto e in ogni momento perché la fonte è con te sempre. La fonte da dove nasce la tua percezione della vita, da dove sta la tua presenza, è con te sempre. Non ti manca mai niente. Siamo stati da sempre, abbiamo fatto cose, cercato metodi per incontrare Dio, ma Dio è la vita che noi siamo e quindi è sempre con noi. La vita o la pace e la pace ricordiamo che non è limitata ad una situazione fisica o un luogo concreto, ne si raggiunge dopo aver fatto rituali impegnativi. Bensì la pace, la presenza, la vita è con te sempre, la porti con te perché tu sei lei. Dio è inteso anche come fonte dell'amore, della libertà, della pace, della vita appunto. Puoi respirare queste parole e lasciarti avvolgere da questa protezione sublime che ci offre quest'idea. e con questa tranquillità e senso di protezione ti saluto e ti auguro una giornata all'insegna di sentirti sicuro di quello che sei e del fatto che in tutto ciò che vivi, in tutte le tue esperienze, sei protetto, sei protetta. Per eleggere le 5 idee e le 5 commenti puoi andare al profilo Instagram leggendo Miracoli e mi ritrovi qui domani con la lezione 60 che è l'ultima lezione del ripasso. Buona giornata!